Gambizzato dopo un litigio a Ferragosto, si è risolto in poche ore il giallo di Noicattro, nel quale rimase ferito un ventenne. I carabinieri hanno arrestato lo zio della vittima, il 43enne Antonio Manzari, barese residente a Trigiano. Quest'ultimo è stato individuato dai carabinieri grazie ad alcune testimonianze che hanno indicato lo scooter sul quale era fuggito dopo aver sparato. Secondo quanto ricostruito dai militari che hanno ascoltato il ventenne, i due parenti avrebbero litigato durante il pranzo di Ferragosto. Ad esasperare gli animi è anche un diverbo tra cugini, il figlio dell'arrestato 16enne e la vittima che avrebbe picchiato il minorenne. Sarebbe stata questa la molla che ha scatenato l'ira dello zio. Ora si cerca l'arma, forse una semiautomatica calibro 9.